Musica ...e' giusto, è beneficenza, va per meritocrazia e anche un merito ragazzi eh allora c'è Sacchi, vedo Sacchi, va che bell'uomo Luca Sacchi ragazzi oggi corre anche... ...e Fabian e l'altro Risti, eccoli là ragazzi possiamo andare a casa, grazie finita, finita, no non è vero, non è vero, dietro sono fortissimi eh arriva anche dietro, chi è che c'è, Bonacina? non lo vedo da qua, ah no, Berangé, Berangé, Berangé Risti è appena uscito dal parrucchiere, vedete Risti, ecco c'è ancora la ferita sul braccio ecco Crivellaro, Crivellaro ha vinto la medaglia del campionato italiano di acqua ecco Fabian, avrei la cola, vediamo che è più veloce eh la velocità è un po' quella del... no no, Risti, Risti, Fabian, eccolo qua col cappellino immancabile sono Silvana De Giovanni, direttore di fondazione Laureus, Sport for Good una fondazione internazionale che si occupa di giovani in situazioni di disagio che vivono nelle periferie italiane e internazionali io mi occupo di quella italiana, abbiamo sei progetti in Italia, a Milano, a Roma, a Napoli, a Bari e a Catania ci occupiamo di ragazzini dai 6 ai 17 anni che si trovano in una situazione momentanea di disagio e usiamo lo sport come strumento per agganciarli e poi costruiamo dei percorsi educativi e sportivi con voi ci sono grandi campioni che abbiamo visto oggi ci sono grandi campioni, ci sono grandi campioni, il nostro ambasciatore internazionale Giacomo Agostini dai la mia nipote, la mia nipote abbiamo 56 ambasciatori che rappresentano tutte le discipline nel mondo Giacomo Agostini rappresenta l'Italia in tutto il mondo bilancio di oggi quindi è una grande giornata, è una giornata importante Assessore, venga è una giornata importante che si è resa possibile grazie alla partecipazione e alla collaborazione pubblico privato e l'assessore De Nicolo devo dire che ha avuto un ruolo fondamentale nella realizzazione di questo evento, cosa ne pensa? ma io credo che il ruolo veramente fondamentale ce l'ha avuto l'organizzazione che sono stati bravissimi ma il ruolo ancora più grande l'hanno avuto i sindaci del territorio il sindaco di Settimo, il sindaco di Cornaredo tutti i tanti volontari che hanno collaborato per un evento che è riuscito mi pare nel modo migliore ci fosse stato anche un po' di sole, sarebbe stato proprio l'apoteosi però credo che sia la prima volta sia una vittoria, sia la prima volta che ospitiamo come città metropolitana questo evento ma certamente lo ripeteremo negli anni a venire bene, in bocca al lupo per l'anno prossimo Luca Sacchi, la vostra società protagonista a Settimo Milanese a Milano con il Triathlon quali progetti per il futuro? beh, diciamo di portare avanti quello che stiamo facendo da diverso tempo per cui completare il nostro percorso di offerta, di promozione del Triathlon siamo nati come elite, poi ci siamo sviluppati con i ragazzini con il settore age group, ci mancava la gara abbiamo colto l'occasione che Laureus ci ha messo sul banco di riuscire a integrare anche questo il bilancio di questa giornata? beh, molto positivo per il numero di partecipanti in relazione alla stagione 300 iscritti per una gara al 20 di ottobre è un numero sensazionale tutti sono arrivati, tutti sono stati bene non ci sono stati incidenti, un enorme successo e per l'anno prossimo? beh, per l'anno prossimo vorremmo ovviamente fare un passo in più in là per cui organizzarla partendo da questo presupposto per farla diventare un classico delle manifestazioni italiane è un grado tope? non lo so, questo dobbiamo ancora decidere, lo vedremo e se vogliamo crescere lo dobbiamo anticipare perfetto, grazie signor sindaco, settimo milanese è protagonista dello sport metropolitano per il futuro? ma speriamo, in realtà lo sport a settimo è una tradizione anche grazie alla DDS ed è stata una bellissima occasione questa di organizzare fra l'altro il primo triathlon della città metropolitana con il coinvolgimento anche dei comuni di Cornaredo in particolare comuni sui quali si è svolta praticamente la corsa ciclistica ma anche interessando il comune di Ro e il comune di Pero e con una partecipazione molto attiva della provincia di Milano e quindi credo che sia stato un bel esperimento anche per propagandare uno sport che si sta diffondendo in maniera notevole e che è effettivamente sempre più praticato da tutte le categorie di età e anche da tutti gli atleti oggi avevamo una rappresentazione particolarmente ricca anche di paratleti quindi credo che sia stata una bellissima giornata di sport qualche disagio è stato inevitabile per quanto riguarda i cittadini piuttosto che quelli che attraversano appunto il nostro comune per recarsi verso il Magentino però credo che ne valesse davvero la pena grazie Ciao Fabiano, hai vinto settimo ma corri anche per la solidarietà com'è andata questa giornata? Ma come ho detto prima questa giornata era una giornata di festa eravamo qui per l'Aureus questa fondazione che lavora con i ragazzi con i ragazzi meno agiati e che aiuta più che altro per insegnarli a vivere e in qualche maniera a dare qualcosa in più ricavando lo sport infatti sono qui come ambasciatore mi fa piacere di dare questo supporto e spero che comunque l'Aureus riesca nel suo intento io gli aiuterò I prossimi obiettivi, le prossime sfide quali saranno? Per quest'anno sono finite ormai la stagione è conclusa il prossimo anno avremo il campionato del mondo come tutti gli anni e il campionato europeo comunque da marzo inizierà la qualifica olimpica verso l'Io 2016 Grazie, ciao Grazie a voi Com'è andata questa giornata di sport a settima? Benissimo, molto bella divertente un sacco di gente è una cosa bella una cosa per beneficenza quindi è una cosa che dobbiamo aiutare i bambini a conoscere lo sport quindi è stata una bella manifestazione Grandi campioni per lo sport e per la solidarietà Esatto, questo ci vuole perché noi abbiamo avuto tanta fortuna nella vita e quindi è giusto che facciamo qualcosa anche per gli altri per chi non l'ha avuta e infatti guarda lui è un po' meno del 96 vedi, è uno di 96 eh sì arrivano altri ex giovani non è vero come ex giovani? non si dice ecco Deborah, Sofia, Zucca eccola qua Deborah è una freddolosa vedi lei è una da 94 gare l'anno lei corre sabato e domenica se ce ne sono due la ne fa anche domenica 2 è una freddolosa